Il Consiglio regionale si occupa di tutto e di più. Ieri in una seduta caotica tra votazioni continue per l'inserimento di nuovi provvedimenti, contestazioni e scambi di opinioni molto vivaci. Ad innescare il scintille sono state piuttosto le delibere non previste, portate in aula dal centro-destra, dalle modifiche sulle concessioni di grande derivazione idroelettriche alle identità accessorie del garante regionale dei detenuti, passando per le modifiche alla legge istitutiva dell'ARSAC. Le misure urgenti in tema di eco compreso e le disposizioni per garantire in condizioni controllate e sicure gli incontri in ambito ospedalieri tra degenti e familiari. Duro il capogruppo PD Domenico Bevacqua che ha parlato di metodo sbagliato, valutazione che ha visto altri consiglieri di opposizione con Francesco Pitaro che ha accusato la mancanza di educazione istituzionale e Carlo Guccione che ha chiesto la nomina in una commissione d'inchiesta sull'arrivo in aula di provvedimenti. Con l'approvazione di nuovi progetti di legge si è conclusa la caotica seduta del Consiglio regionale. Discoverde alle modifiche sulle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazioni idroelettriche e alla proposta su misure di impulso allo sviluppo di industrializzazione e di insediamento di attività produttive. Via Libera poi al rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, la relazione sulla gestione 2020 e del piano degli indicatori di bilancio e dei risultati atteso del Consiglio regionale in cui i termini sono in scadenza il 30 giugno e alle modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013. Sul fronte opposto baldoesposito ritenendo utile una grande riflessione su alcuni aspetti di natura politica ha comunque evidenziato il vulmus maturato da qualche tempo. Così Guccione ha anche puntato l'indice contro la legge sugli indirizzi strategici della programmazione regionale poi così approvato a maggioranza, rinviata in commissione lo scorso aprile riguardanti il territorio lombardo. Non è la stessa proposta, ha risposto il relatore Giuseppe Neri. La verifica in commissione non ha solo corretto gli errori ma ha consentito di reagire il testo con le indicazioni nel frattempo venute dalla Commissione europea.